Il match tra Solesef e Bici Saronno, da un under arriva un gol, è sempre una cosa bella, è sempre una cosa importante, com'è la sensazione al termine della partita sofferta ma vinta. Sensazione bellissima soprattutto perché abbiamo portato a casa i tre punti e fare gol è sempre una grande emozione. Oggi ti è toccato anche tanto compito difensivo, non soltanto offensivo, il mister probabilmente in quella sua volontà di far riegare all'interno del gioco e ti ha chiesto anche di difendere. Però ti sei sempre fatto trovare presente nel momento in cui ci hai stato bisogno. Certo, nel momento in cui ci hai bisogno di dare una mano alla squadra sei sempre pronto. Grazie, ci vediamo domenica. Grazie, a tutti.